Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Indovinate che cosa abbiamo oggi? Un'altra LOL! Eccola qui! Nello scorso video avevo fatto vedere che ne avevo comprate tre e quindi oggi ne abbiamo un'altra! Ho trovato le ultra rare nell'ultimo video come avete potuto vedere e continuiamo a vedere e continuiamo la collezione non credo che la farò tutta ovviamente perché ci spenderei un patrimonio quindi anche no dopo queste due non so se ne prenderò altre sinceramente intanto apro queste e poi si vedrà iniziamo subito allora il primo strato lo troviamo e anche questa è fatta male ma dai! vabbè nel primo strato troviamo l'indizio che probabilmente è stato messo a caso dato che io ho trovato due indizi uguali l'altra volta per due cose diverse per cui vabbè eccolo qua! comunque hot stuff uh! interessante! chi c'è? oddio oro! oh mio dio! oddio! oddio! è una glitterata no! no no fantastico oh mio dio no andiamo avanti apriamo il secondo strato strato ah! senza che magari vi sto voglio adesivere eccoli qua ci sono gli adesivi e sono questi qua si è un po' incollato non so perché vedete che c'è tipo una seconda patina adesso vediamo le scarpine no se c'è veramente con l'oro sono troppo troppo felice è stata incartata un po' male questo sì? vabbè eh! sarebbe questo quindi vero? sì vedete che l'hanno incartata male ma perché? ah no che scarpe adesso troviamo la la bottiglietta o il viveron oh mio dio è glitterata guardate che bella che è oh mio dio questa forma mi piace molto di più rispetto a questa qua tipo stalvax guardate è glitterata anche questa oh mio dio no fantastico fantastico adesso troviamo le scarpe era questo vero? aspettate che no non ho sbagliato strato era questo perché pensavo di aver sbagliato strato eccole qua vediamo un po' e apriti acqua dall'altra ok vediamo che scarpe ne sono oddio sono tutte argentate guardate che belline oh mio dio fantastiche chi sarà? non lo so sinceramente perché non mi ricordo quelle quelle dorate quelle glitterate quali fossero quindi apriamo anche questa vediamo il vestitino e da lì forse lo capiamo qual'è? uh siamo pronti? chi è? uh ho capito chi è è quella cosmica aspettate aspettate non mi ricordo come si chiama Cosmic Girl una roba del genere vediamo un po' dovrebbe essere la faccio vedere da qua questa che sinceramente tra le tante non era quella che mi faceva proprio impazzire però va bene è glitterata va bene lo stesso uh guardate gli occhiali che belli e adesso apriamo la bambolina guardate quanti glitter oddio scherzavo mi piace tantissimo mio dio è stupenda è molto più bella di come sembra in checklist sinceramente però è piena di brillantini anche sulla faccia guardatela allora Cosmic Queen ecco come si chiamava questa qui ed è una rara a me piacevano un sacco queste due però mi accontento di quella perché è bellissima lo stesso guardate quanto bella è ha gli occhi viola è bellissima oddio è stupenda quindi adesso la vesto non credo che cambi colore perché è tutta glitterata quindi in pratica non avrebbe niente che cambi colore dato che è tutta glitterata però ha anche tutti i brillantini addosso vabbè la vesto e poi le diamo da bere e vediamo cosa fa ok eccola qua vestita guardate le mie mani come sono ridotte sono piene di brillantini e anche qua sul tavolo ma ok è bellissima lo stesso adesso riempio il liberon d'acqua e vediamo che cosa fa cosa farà? sputa abbiamo un'altra bambolina che sputa adesso proverò a pulirla da tutti questi glitter ma è veramente bellissima bellissima cioè fantastica e volendo possiamo inserirle gli occhiali fissandoli dietro eccola qua con gli occhiali bellissima no è bellissima basta stupenda quelle glitterate sono veramente bellissime belle 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 ma anche quelle normali cioè sono stupende eccola qua insieme alle sue amichette quindi adesso dovrei andare ad aggiungere il simbolo che sputa alla checklist di questa qui e quindi eccola qua guardatele che belle tutte vicine sono bellissime fatemi sapere se anche voi ne avete comprate chi avete trovato iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti per non perdere il prossimo video io vi mando un bacio e al prossimo video ciao iscriviti al canale